buongiorno sono marco leone di auto euro brandini oggi scopriamo insieme la nuova bmw x4 rispetto alla versione precedente la nuova bmw x4 a linee più muscolose definite e proporzioni bilanciate una vera e propria presenza atletica sulla nuova bmw x4 è disponibile tutta la tecnologia più avanzata di bmw come l'active air stream e i nuovi fari full led adattivi la dotazione interna può comprendere l'head up display che proietta tutte le informazioni utili alla guida sul parabrezza e l'ultima generazione di idrive touchscreen con comandi gestuali alla guida sorprende l'agilità di questo nuovo SUV sportivo di bmw e il comfort anche su strade non proprio perfette quello che stiamo guidando è il 2000 turbodiesel da 190 cavalli molto brillante e con consumi veramente contenuti la nuova bmw x4 vi aspetta nei saloni auto euro brandini in via nobelotto a sesto fiorentino e in via ambrosoli 30 a firenze sud grazie a tutti